Come faccio a capire se un'ottica è adatta alle mie esigenze? Nonostante sia un tema ampiamente dibattuto, oggi vi porto un video in cui vi spiego come fare a capire se un obiettivo fotografico o video è adatto alle vostre esigenze. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia, materia della quale mi occupo da abbastanza tempo e in tutto questo tempo ho spesso risposto a commenti e domande che mi sono arrivate riguardo a un'ottica piuttosto che un'altra. Capita molto spesso che degli utenti mi facciano la domanda questo obiettivo è adatto alle mie esigenze? Come performa? Come si comporta? È giusto per me? Oggi faccio un contenuto in cui vi spiego come fare a capire se un obiettivo è adatto alle vostre esigenze. Prima di cominciare però vi ricordo che se questo tipo di argomenti vi interessano potete supportare questo canale cliccando il bottone iscriviti qui sotto e attivare anche la campanella in maniera tale da non perdervi le notifiche. State facendo un favore a me ma vedrete che il favore lo state facendo anche a voi stessi invece se volete supportarmi lasciando un like a questo video il favore lo state facendo proprio solo a me. Benissimo ma andiamo a cominciare e qui io ho la mia assistente spero che riusciate a vederla questa qui è la Canon EOS 6D con innestato il mio meraviglioso obiettivo il 16-35 mm. Ora io voglio richiamare la vostra attenzione sulla parte frontale della nostra ghiera. Se andiamo a esaminare con attenzione questo dettaglio vedremo che abbiamo tutta una serie di informazioni che sono cruciali per stabilire se questo obiettivo è adatto o meno alle nostre esigenze. Attenzione io vi parlo di ghiera frontale qualora abbiate l'obiettivo in mano ma queste informazioni sono semplicemente il nome della lente per cui nel momento in cui andiamo a vedere un obiettivo sul sito del produttore o su Amazon o su qualunque altro sito web vediamo riportate esattamente le stesse informazioni che abbiamo qui sulla ghiera oppure sul barilotto dell'obiettivo quindi le informazioni che sono scritte stampigliate su tutta quanta la lente sono fondamentalmente una leggenda di come questa lente va a performare. Andiamo con ordine. Noi qui abbiamo Canon Zoom Lens. Questa prima parte ovviamente ci fa capire che è un obiettivo della casa Canon e che è un obiettivo zoom. Che cosa significa obiettivo zoom? Che ha una ghiera che ci permette di far basculare le lenti all'interno del nostro barilotto e questo ci permette di variare la lunghezza focale. Una lente zoom ci permette di fare questo. Una lente prime non ce lo permette quindi ci sono vantaggi e svantaggi che ho già affrontato in un video che ho dedicato a come si fa a scegliere un'ottica piuttosto che un corpo macchina. Vi invito ad andarvelo a recuperare se volete qualche delucidazione in più su questo particolare tema. Noi qui ci occupiamo solamente di come fare a comprendere la tipologia di lente quindi non vado ad affrontare questo argomento in questa sede. Procediamo e vediamo che c'è scritto EF. Questo EF può sembrare un numero astruso, una lettera senza senso, ma in realtà disegna il tipo di monta. La monta EF è la baionetta, è l'innesto dei corpi macchina Reflex e in particolare di quelli full frame. Questo vale per la casa Canon ovviamente. Ogni casa ha il suo innesto, probabilmente brevettato e proprietario. Per esempio Nikon ha il suo, Sony ha il suo, Olympus ne ha un altro ancora, Fuji ne ha un altro ancora. Ogni casa ha il proprio innesto e i propri obiettivi compatibili. Quindi io vi parlo di Canon e vi leggo EF, ma qualsiasi obiettivo abbiate in mano designerà il tipo di monta con il quale è compatibile. Quindi questo è importante perché nel momento in cui prendiamo in mano una lente abbiamo subito l'informazione, il tipo di monta e se andiamo a vedere le monte compatibili con il nostro corpo macchina sappiamo subito se è compatibile o meno. L'informazione immediatamente successiva è 16-35 mm. Questa è la lunghezza focale. La lunghezza focale significa fondamentalmente il range di questo obiettivo. Questo obiettivo può darci l'angolo di campo e la profondità di campo di un 16 mm e man mano che noi zoomiamo arriva a restituirci l'angolo di campo e la profondità di campo di un 35 mm. Questi sono fattori che variano a seconda del tipo di lente e del tipo di sensore, però nel momento in cui vediamo riportata questa dicitura sul nostro obiettivo abbiamo un'idea del range di zoom che stiamo andando ad acquistare. Ovviamente questo può variare in funzione del corpo macchina perché quest'ottica può essere montata su full frame e sarà effettivamente un 16-35 mm ma io potrei anche montarla sopra un corpo a psc e in questo caso il 16 e il 35 andrebbero moltiplicati per 1,6 mm perché il fattore di crop di Canon sui sensori più piccoli è di 1,6 mm. Quindi è un'informazione che ci dice il range di zoom della lente se lo utilizziamo su full frame sarà effettivo, se lo utilizziamo su un altro tipo di sensore potrebbe non esserlo più. Ora prendendo il toro per le corna che cosa significa 16-35? Significa che abbiamo un grandangolo molto ampio da 16 mm, il 16 mm per definizione è un grandangolo abbastanza spinto, se zoomiamo possiamo avere un 20, un 24, un 30, un 35 e tutte le misure intermedie ovviamente, quindi un 16-35 significa che va da un grandangolo spinto a un grandangolo medio. Nel momento in cui vogliamo catturare un panorama, un paesaggio, una fotografia di interni, un'architettura, una veduta ampia, questa lente è l'ideale. Se avessimo a che fare con un 100 mm al contrario sarebbe una lente da ritratto o una lente da prodotto, quindi la lunghezza focale della nostra lente ci sta dicendo a che cosa serve quella lente fondamentalmente, perché se ha una lunghezza focale molto corta servirà per fare delle cose molto ampie o per fotografare degli oggetti molto grandi o per fotografare da vicino qualcosa di imponente, quindi catturare una scena intera nonostante siamo molto vicini, se invece avrà una lunghezza focale più estesa servirà a catturare le cose da lontano, quindi a ingrandire cose che stanno molto distanti da noi, oppure a fotografare delle persone facendo dei ritratti con uno sfocato maggiore. Procediamo e leggiamo f4. Questo f4 che cosa significa? È l'apertura massima che questa lente ci consente. L'apertura è il diaframma, per cui il nostro diaframma massimo è f4. Massimo significa che possiamo stringerlo, possiamo fare entrare meno luce e facendo entrare meno luce avremo una profondità di campo maggiore, quindi terremo una porzione maggiore dell'immagine a fuoco ma perderemo luminosità. Viene indicata l'apertura massima perché l'apertura massima significa la massima quantità di luce che siamo in grado di fare entrare. Riportando la quantità massima di luce che riusciamo a fare entrare noi sappiamo se questa è una lente luminosa, potenzialmente luminosa ovviamente, perché una lente luminosa può anche essere chiusa di diaframma e quindi diventa una lente buia tanto quanto le altre. Nel momento in cui io leggo f4 significa che la mia lente non è particolarmente luminosa perché una lente luminosa avrebbe un diaframma più ampio a cui corrisponderebbe un numero f più piccolo. Per esempio f1.2 è una lente veloce, una lente molto luminosa con un diaframma più ampio. F4, numero più grande, diaframma più piccolo. Quindi una lente che di partenza parte da f4 è una lente non veloce, è una lente abbastanza buia. Questo ci dà un'ulteriore indicazione su cosa potremmo fare con questa lente. Probabilmente non la useremo per fare eventi, probabilmente non la useremo per fare sport se non in pieno giorno, probabilmente la useremo invece per fare cose statiche. La utilizzeremo per fare paesaggio e fotografia di interni, dei generi in cui possiamo fare delle fotografie con delle pose più lunghe stando su tre piede in maniera tale da bypassare questa apertura più piccola che fa entrare meno luce allungando il tempo di posa. L'informazione successiva è una L rossa. Ora questa è una cosa che alcuni brand fanno, altri no. Canon in particolare ha una linea che potremmo definire prestige, quella di lusso, quella per intenderci che riporta il celebre anello rosso sul frontale. Questa è la serie L di Canon, quindi le lenti più belle che la casa mette in produzione per fotografia. Poi ci sono le lenti cinema, le ottiche cinema sono un'altra cosa. Queste qui sono le ottiche fotografiche più belle che troviamo sul mercato per quanto riguarda casa Canon, per cui questa L sta a simboleggiare il fatto che abbiamo per le mani un'ottica di qualità. Proseguiamo e leggiamo IS. Ora IS sta per Image Stabilization e ovviamente significa stabilizzatore d'immagine. Nel momento in cui abbiamo una lente dotata di stabilizzatore d'immagine, lo sapete già anche voi, avete già indovinato, significa che questa lente ha un sistema di stabilizzazione interno, per cui è una lente che ci permette di allungare i tempi di posa, compensa i movimenti della nostra mano, compensa il tremolio naturale che ognuno di noi ha quando scatta. Possiamo allungare quindi i tempi di scatto portandoci a casa delle immagini prive di micromosso, ovviamente entro certe soglie. Ovviamente un'ottica dotata di stabilizzatore d'immagine costa molto di più rispetto a un'ottica che ne è priva. Vi faccio un esempio, il Canon 1740 mm, attenzione 1740, è privo di stabilizzatore e costa, mi sembra, quando le acquistai io costava 700 euro. Il 1635, attenzione quindi 1740 1635, il range è molto simile, anzi se vogliamo guardarla tutta il 1740 ha un po' più di range rispetto al 1635, per cui semplicemente basandosi sulla lunghezza focale sarebbe un'ottica migliore. Però il 1635 f4 LIS USM ha lo stabilizzatore e infatti è un'ottica che costa di più, io se ricordo correttamente la pagai almeno 1200 euro, per cui lo stabilizzatore ci aumenta il prezzo di un terzo praticamente, è una componente molto costosa. USM, siamo arrivati alla fine, USM è ultrasonic motor, praticamente sta a indicare il motore a ultrasuoni che gestisce la messa a fuoco della nostra lente. Il motore a ultrasuoni è all'interno della lente, non all'interno del corpo macchina nella maggior parte dei casi, quindi abbiamo il nostro motore che andrà a mettere a fuoco in maniera accurata e silenziosa in virtù del fatto che è un motore a ultrasuoni e quindi non dovrebbe emettere il benché minimo rumore. Esistono tipi diversi di motori di messa a fuoco, ovviamente ogni casa ha il suo brevetto proprietario per un tipo di motore di messa a fuoco e li chiama in modi diversi. Io faccio riferimento a Canon perché ho in mano una fotocamera Canon, ma qualunque apparecchio abbiate in mano probabilmente riporterà una dicitura simile. Ora, tutto questo che vi ho detto finora vi fa capire che tipo di lente avete in mano o che tipo di lente state per comprare. Andiamo a fare un recap molto veloce. Nel momento in cui noi andiamo a comprare una lente Canon Zoom Lens sappiamo che è una lente zoom, per cui subito dopo ci viene riportata la monta EF, quindi andiamo a capire su che tipo di corpo macchina la possiamo montare. Per esempio quest'ottica essendo EF la possiamo montare sia su una full frame sia su una PSC e siccome è una lente di concezione vecchia con l'anello adattatore possiamo montarla anche su tutte le fotocamere mirrorless, quindi questa qui è una delle lenti che consentono la massima compatibilità. 16-35 mm come detto significa che abbiamo un 16 mm di partenza, quindi un grandangolo molto spinto e possiamo zoomare fino a un medio grandangolo, quasi una lente standard. Per cui ha un'ottica versatile, ideale per fotografia di interni, paesaggio, architettura e in generale fotografia di viaggio. Vero anche che se noi andassimo a montare quest'ottica su un sensore APS-C dovremmo moltiplicare la lunghezza focale per 1,6, quindi otterremo una lente tutto fare, non sarebbe più un grandangolo estremo, ma sarebbe più una lente da kit con cui possiamo fare un po' di tutto. Attenzione però perché si tratta di una lente con un'apertura massima di f4. Noi possiamo stringere a f22, quindi andare a tagliare luce, però il massimo quantitativo di luce che possiamo fare entrare è dettato dall'apertura massima di f4, quindi non possiamo aprire a f2.8, non possiamo aprire a f3.5, partiamo con un massimo di f4, il che la rende un'ottica non particolarmente luminosa e quindi non un'ottica veloce. Si tratta comunque di un'ottica di serie L, quindi un'ottica di qualità allo stabilizzatore d'immagine e quindi è un'ottica con cui anche se non è luminosa possiamo permetterci di scattare a mano libera anche in condizioni un po' difficili perché lo stabilizzatore va a compensare al motore ultrasonico, quindi avrà una messa a fuoco rapida, fluida e perfettamente silenziosa. Queste informazioni ci fanno capire che cosa ci troveremo in mano nel momento in cui andiamo ad acquistare questa lente e quindi siamo in grado di prevedere che se dobbiamo fotografare interni un grandangolo va bene, invece se dobbiamo fare macro questo obiettivo non va bene, dobbiamo prenderci un 85 mm macro, un 100 mm macro, un 65 mm macro, una lente di un altro tipo. Quindi siamo in grado di prevedere che cosa comprare in base a quello che dobbiamo fare ovviamente. Se dobbiamo fare fotografia sportiva, dobbiamo fotografare la Formula 1, sarà meglio comprare un 300 mm, un 400 mm, un'ottica con una lunghezza focale molto maggiore. Tutto quello che vi ho detto finora però non ci dà alcuna informazione sulle prestazioni ottiche di queste lenti perché è vero che noi abbiamo capito che tipo di lente stiamo comprando, abbiamo capito la lunghezza focale e di conseguenza il tipo di foto che saremmo in grado di fare. Abbiamo capito l'apertura massima e quindi sappiamo quanta luce possiamo far entrare per volta, quindi sappiamo se è una lente che performerà bene o male in scarsa luminosità. Abbiamo capito che tipo di motore di messa a fuoco ha e quindi se è rapida oppure no. Abbiamo capito se è una lente di qualità o meno ma quello basta guardare il prezzo di solito purtroppo. Possiamo però, e questo in pochi lo sanno, andare a scoprire quali sono le performance ottiche di nitidezza di questa lente sia nel centro sia sui bordi. Per fare questo dobbiamo andare online e consultare i grafici MTF. I grafici MTF fondamentalmente ci danno una panoramica visiva con un'infografica di come performa questa lente in termini di nitidezza. Per esempio io vado a mostrarvi l'MTF chart della lente RF 1435, un'ottica di cui ho già parlato sia bene sia male su questo canale, vi lascio i video in card e andateveli a recuperare. Come potete vedere noi qui abbiamo la nitidezza generale, lo vediamo sull'asse verticale, abbiamo l'apertura e lo vediamo sull'asse orizzontale, quindi abbiamo f4, 5.6, f8, f11, f16, f22 e abbiamo due colonne. Il blu sta a rappresentare la nitidezza nel centro del fotogramma e il verde sta a rappresentare la nitidezza ai bordi del fotogramma. Ora andiamo a vedere che cosa succede a 14 mm. A 14 mm abbiamo una performance di nitidezza al centro eccezionale a f4, un po' di meno f5.6, un po' di meno a f8 e via a calare fino a f22 per forza di cose, per via della diffrazione che entra in gioco. Per quanto riguarda i bordi, comprensibilmente abbiamo meno nitidezza, però vedete che si comporta nello stesso modo, nel senso che va a calare. Nel momento in cui noi andiamo a chiudere il diaframma la nitidezza va a calare. Vediamo che cosa succede però nel momento in cui andiamo a scattare a 20 mm, quindi abbiamo zoomato un pochino avanti. Vedete che abbiamo una situazione non molto diversa, se non che la nitidezza ai bordi migliora sensibilmente. La nitidezza al centro rimane fondamentalmente stabile e vedete che abbiamo un massimo di nitidezza a f5.6 che va poi a calare da f11 in giù. Identicasi per la nitidezza ai bordi ovviamente va a calare da f11 in giù. Questo cosa ci fa capire? Guardando solamente queste due lunghezze focali ci rendiamo già conto che questa è un'ottica con un'ottima nitidezza al centro se non superiamo f11. Se superiamo f11 la nitidezza va un po' perduta. La nitidezza ai bordi ovviamente è un po' sacrificata anche se comunque la performance è accettabile. Nel momento in cui andiamo a 28 mm, come vedete, abbiamo una buona nitidezza a f4. Abbiamo una nitidezza pressoché uguale ai bordi al centro tra f5 e f8. Nel momento in cui andiamo a scattare a f11 comincia a sottoperformare, nel senso che qui sì, siamo ancora su una buona performance tutto sommato. Però non è più eccezionale. Nel momento in cui andiamo a f16 o f22 la performance è assolutamente mediocre. Arriviamo all'ultima slide e vediamo come si comporta l'ottica a 35 mm e anche qui vediamo che la performance di nitidezza non è soddisfacente a mio parere. Nel senso che a f4 abbiamo una buona nitidezza al centro e così così ai bordi. Tra f5.6 e f16 la nitidezza non è particolarmente buona né al centro né ai bordi. Questo che cosa ci dice? Qui abbiamo per le mani un'ottica che non è concepita, disegnata benissimo perché ha un'ottima nitidezza ma solo al centro e solamente a f4. Un'ottica come questa raramente si usa a f4, io la uso quasi sempre a f8 dove dovrebbe essere lo sweet spot delle ottiche. Questa sembra essere un'ottica che ha lo sweet spot sull'f4 che è una cosa che non va molto bene a mio parere perché un'ottica come questa si userà per fare paesaggio interni e quindi si userà quasi sempre a f8 dove dovrebbe appunto essere lo sweet spot. La performance rimane accettabile quindi io la uso tranquillamente. È molto più nitida verso i 14 mm piuttosto che verso i 35. La performance di nitidezza verso i 35 mm non è particolarmente buona, non è all'altezza di un'ottica L di fascia alta a mio parere, è un pochettino sottoperformante. A me va bene lo stesso e vi spiego perché. Perché io quest'ottica la utilizzo quasi esclusivamente a 14 e 16 mm quindi a me va bene anche se il 35 mm pecca un po' sulla nitidezza a me quello che interessa è l'ultra grand'angolo quindi a me va bene così. Però nel momento in cui andiamo ad acquistare una lente siamo in grado di capire. Andando a guardare il grafico MTF siamo in grado di prevedere come si comporterà un'ottica e quindi se sappiamo già che la utilizzeremo prevalentemente a 35 mm sappiamo che non sarà particolarmente nitida perché è un'ottica che performa bene solo a 14, performa bene tra i 14 e i 20 mm. Dopodiché una volta saliti sopra i 20 mm tende a sottoperformare per quanto riguarda la nitidezza sia sui bordi che al centro. Ora io non voglio parlarvi male di quest'ottica, ne ho già parlato male più che a sufficienza in un altro video in cui ho già parlato e che vi ho già anche linkato in card. Questo era solo un esempio per farvi capire quali sono tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno nel momento in cui stiamo pensando di acquistare una lente. Nel momento in cui sappiamo che la lunghezza focale è quella giusta per noi, abbiamo individuato la foto che vogliamo fare e sappiamo che quella lunghezza focale ci garantisce l'angolo di campo che ci serve o la profondità di campo che ci serve o l'ingrandimento che ci serve per fare la nostra foto. Benissimo. Abbiamo stabilito che il rapporto viene mantenuto o alterato in base al sensore che usiamo, quindi full frame, rapporto mantenuto, APS-C o altro tipo di sensore, micro 4 terzi, qualsiasi altra cosa sia, rapporto alterato. Abbiamo stabilito che ha la messa a fuoco automatica, abbiamo stabilito che è uno zoom, abbiamo stabilito che è compatibile con la nostra macchina, tutto quello che vogliamo. Una volta stabilite tutte queste cose e il prezzo ovviamente, quindi una volta stabilito che è giusta per noi, possiamo anche andare a vedere col grafico MTF quanto è nitida, possiamo andare a vedere che tipo di performance ci restituisce. Ora i grafici MTF solitamente dovrebbero essere garantiti dal produttore stesso, io purtroppo vedo che una volta questa cosa veniva fatta sui siti web di tutti i produttori, era molto facile trovare il grafico MTF da qualche parte, oggigiorno vedo che non è più così semplice, non tutti lo mettono, bisogna andare magari a cercarselo, infatti le slide che vi ho fatto vedere io vengono da un sito di terze parti, sono andato anch'io online a fare la ricerchina, ci ho messo 30 secondi, basta cercare Canon nome della lente grafico MTF, lo trovate immediatamente da qualche parte. Questo vi dà una buona misura di quello che state andando ad acquistare, ovviamente se trovate un'ottica che vi piace tantissimo ma ha delle performance di nitidezza molto basse, potete pensare di trovarne un'altra magari, perché è possibile che esista una lente che magari, faccio un esempio, magari voi volevate un 10-24, magari il 10-24 ha delle performance, sto inventando, è una lente che non esiste, magari ha delle performance di nitidezza che non vi soddisfano, allora andate a cercarne un altro, magari andate a vedere che esiste un 12-30 che magari ha una performance di nitidezza migliore, e allora andate a prendere quello, perché avete visto dal grafico MTF che ha una nitidezza migliore e voi volete la nitidezza su tutto il fotogramma, per esempio. Questo può essere un criterio, in fin dei conti secondo me il criterio migliore per scegliere un'ottica è la lunghezza focale, l'apertura e il prezzo, per un motivo molto semplice, perché lunghezza focale è quello che ci permette di fare una foto di cui abbiamo bisogno piuttosto che no, perché se io sto fotografando un interno ho bisogno di un grandangolo, quindi la lunghezza focale è la prima cosa, la lunghezza focale mi mette in grado di fare il frame che mi serve, che dovrebbe essere la cosa più importante. Il prezzo è molto importante perché io posso scegliere una lunghezza focale che mi costa 1000 euro, posso scegliere la stessa lunghezza focale che mi costa 300 euro magari, quindi esistono lenti di fasce diverse, io scelgo anche in base alle mie tasche, in base a quello che devo fare. Quindi prezzo e lunghezza focale dovrebbero essere la prima cosa. L'apertura è la terza cosa, perché una lente con un diaframma molto ampio costerà di più, darà probabilmente anche delle performance migliori, perché essendo una lente più costosa, con un'apertura maggiore, probabilmente le performance ottiche saranno migliori. Ovviamente dobbiamo decidere se quei soldi in più valgono la candela per noi, per quello che dobbiamo fare. In fin dei conti, secondo me il grafico MTF è importante, perché ci dà una panoramica della performance reale della nostra ottica per quanto riguarda la nitidezza, ricordiamoci anche però che la nitidezza non è tutto. Quindi molte volte il fatto di poter fare quell'angolo di campo, di poter fare quella foto magari con quello sfocato, è più importante della nitidezza. Poter fare lo scatto, potersi portare a casa lo scatto è più importante piuttosto che potersi portare a casa lo scatto nitido. La nitidezza è un di più, è un qualcosa che possiamo un minimo aggiungere in post-produzione, però se abbiamo la nitidezza ma non abbiamo l'angolo di campo è peggio. Quindi io privilegerei l'angolo di campo e quindi la lunghezza focale prima ancora che la nitidezza. Ciò non di meno, i grafici MTF io li guardo perché mi piace sapere che tipo di nitidezza avrà la lente che sto acquistando. A questo punto, amici, vi chiedo, avete domande su qualche particolare aspetto, volete sapere come performa una particolare lente? Vi invito innanzitutto ad andarvi a cercare il grafico MTF e a leggere le informazioni sull'ottica. Se una volta che l'avete fatto avete ancora domande, vi invito a farmele sapere in un commento in maniera tale che vi possa andare a rispondere. Vi consiglio anche di iscrivervi al canale così non vi perdete le risposte perché spesso faccio dei video in risposta ai commenti che ricevo. Lasciate anche un like a questo video così mi date una grossa mano perché l'algoritmo vede che stiamo lavorando bene, stiamo creando una bella community. A questo punto io vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.